Buongiorno, è proprio vero che il nostro metabolismo decelera man mano che invecchiamo e che molte persone ingrassano già intorno ai 30-40 anni perché il metabolismo non funziona più e quindi si rallenta e questo è responsabile dell'aumento ponderale. Qual è l'evidenza scientifica? Ecco, questo paper pubblicato su Science, che è una delle più prestigiosi riviste scientifiche a livello mondiale, ci dà qualche clue per capire in realtà se questo mito sia vero o no. Allora, cosa hanno fatto in questo lavoro scientifico? L'ultimo autore è John Speakman, lo conosco, abbiamo pubblicato un lavoro assieme qualche anno fa sulla sinistra cellulare, poi ci sono vari autori come Susan Rasset e altri con cui ho lavorato quando ero in America alla Washington University. Cosa hanno fatto? Hanno preso praticamente 6400 uomini e donne con età che andava tra gli otto giorni e i 95 anni e hanno misurato il consumo energetico, cioè quante energie, quante calorie consumavano con una metodica molto sofisticata e costosa che si chiama l'acqua doppia marcata. Cioè le persone devono bere per circa due settimane, giornalmente questa acqua doppia marcata, poi vengono raccolte le urine e sulle urine con delle metodiche sofisticate si misura appunto il consumo energetico su base giornaliera, facendo una stima. Quindi è una metodica molto precisa e molto sofisticata che ci dice nella vita normale, quindi non a riposo, nella vita normale durante il giorno quante calorie una persona consuma, consuma, spende diciamo. Viene chiamata total energy expenditure, ok? In un subset di circa 2000 persone hanno anche misurato invece il rest di metabolic rate, cioè il consumo energetico a riposo. Come si misura questo? Si misura con la calorimetria in diretta. Cioè, ho fatto molte volte io stesso quando ero ancora un ricercatore giovane, le persone vengono la mattina a digiuno, li si mette in una stanza, sul letto a riposo, dopo gli si posiziona una canopy, cioè una specie di, mi dice canopy, è una specie di cilindro che ti permette di isolare la persona e di misurare il consumo di ossigeno e la produzione di CO2, attraverso questi due parametri si calcola la spesa energetica, il metabolismo basale a riposo. Infatti le persone non devono parlare, devono stare occhi chiusi, ferme e per mezz'ora. Quindi questa è una misura di tutto il giorno durante le attività, tutte le attività, questa invece è una misura soltanto a riposo che non tiene conto appunto della spesa energetica durante i pasti o attività fisica o altre attività. Allora, quali sono i risultati di questo studio molto ben fatto? Sono praticamente che in diverse fasi della vita il consumo energetico varia. Innanzitutto aumenta pazzescamente nel primo anno di vita. Già dopo un mese, da quando è nato nasce, a un mese di vita circa, la spesa energetica aggiustata per il peso corporeo, perché naturalmente si sa, anche in questo studio, non potete vedere che man mano che aumenta il peso corporeo, meglio la superficie corporea e quindi il peso degli organi, che sono importantissimi, per esempio il cervello e il fegato, sono due grossi determinanti del consumo energetico, cioè succhiano un sacco di energia, aumenta appunto aumentare del peso. Quindi questa linea gialla è adjusted, cioè è la spesa energetica aggiustata per il peso corporeo, chiamiamolo peso corporeo, è un po' più complicato per capirci, per il peso corporeo. Quello che si vede è che anche se si aggiusta per il peso corporeo, nel neonato c'è un aumento di circa l'85% del consumo energetico fino a circa sette mesi di vita, che significa che a parità di peso un neonato ha bisogno di un sacco di energia, ed è importantissimo quindi questo per far capire che bisogna in questo primo anno di vita fornire tutte quelle calorie che sono fondamentali per permettere al bambino di crescere in maniera corretta. Dopo il primo anno di vita, circa sette mesi, in cui c'è questo inflection point, invece il consumo energetico totale, aggiustato per il peso diminuisce, diminuisce di circa il 3% per anno, per arrivare poi a vent'anni circa, 20,5 anni, in cui c'è un altro punto di inflessione. E da qui, dai 20 anni fino circa ai 63 anni, è costante il consumo energetico aggiustato per il peso corporeo. Quindi non è vero che il metabolismo sia bassa intorno ai 20-30 anni, ed è il motivo per cui le persone aumentano di peso. Non è la spiegazione, le persone aumentano di peso perché non fanno attività fisica, ma soprattutto consumano del cibo sbagliato, un cibo ipercalorico, iperproteico, soprattutto proteine animali, come tu ci hai spiegato in diversi video e nel mio libro. Quindi, insomma, adesso non entriamo nei dettagli di perché l'attività fisica e la dieta fanno aumentare il peso, ma non è sicuramente il metabolismo che si rallenta, e questo studio lo dimostra chiaramente. Anche se, a dire il vero, se andiamo a vedere in quelle 2.000 persone in cui abbiamo misurato il resto di metabolic rate, sembrerebbe che invece che a 63 anni il resto di metabolic rate inizia a diminuire intorno ai 46 anni. Però, ripeto, gli stessi autori dicono che siccome la numerosità è bassa, non possono con certezza dire, visto la variabilità, che questo sia un dato forte. Mentre questo, su 6.000 persone, è un dato forte. Dai 20 ai 63 anni non c'è una riduzione del consumo e della spesa energetica. Invece, dopo i 63 anni, sì, anche se c'è una riduzione del resto, perché dopo intorno ai 60 anni, sia la massa grassa che la massa corporea totale diminuisce e diminuisce di circa l'1% per l'anno il consumo energetico aggiustato per il peso corporeo. Infatti, le persone che hanno più di 90 anni, si è vista una riduzione di circa il 26% del consumo energetico rispetto agli adulti. Quindi, ripeto, molto molto interessante. è questa riduzione della spesa energetica, del consumo energetico, che è indipendente dalla massa corporea, probabilmente legato a una riduzione del metabolismo tessutale degli organi, cioè ci sono dei meccanismi cellulari che fanno sì che l'organismo consuma meno calorie. In maniera interessante, anche se c'è una riduzione sia della massa grassa che della massa del peso corporeo. Quindi il metabolismo rallenta dopo i 63 anni. Naturalmente c'è una differenza tra uomini e donne, anche se poi quando andiamo a vedere, correggiamo per il peso corporeo, questa differenza scompare. L'altra cosa interessante è che questo studio fa vedere che anche nelle donne in gravidanza o nel postpartum non c'è un aumento della spesa energetica tra i 20 e i 50 anni, naturalmente, nel periodo fertile. È costantissimo questo. C'è una forte variabilità, a parità di età, ci sono una forte distribuzione di total energy expenditure, misurato con l'acqua doppia marcata. Questo è molto interessante. e andrebbe anche analizzato perché dopo i 60 anni c'è questa riduzione della spesa energetica, anche se corretta per la massa corporea. Che, ripeto, probabilmente è legato a un cambiamento del metabolismo di organi importanti, come il cervello e il fegato, che consumano un sacco di calorie. Sono degli organi energivori e sappiamo, dal resto che è molto interessante, voi sapete che io studio, ho studiato per tanti anni la restazione calorica e sappiamo che gli animali a restazione calorica, tipo questo topolino, vivono all'incirca il 30-40% in più, come vedete qua. sono molto più, hanno un peso corporeo molto più basso che gli animali che mangiano a volontà, ma vivono anche fino al 50% in più. E questo è un paper pubblicato dal mio amico Richard Beindrick su New England, nel 97, un review article. E come vedete qua, la cosa interessante è che se voi prendete un animale che mangia a volontà e un animale che mangia il 30% in meno, un topolino che mangia il 30% in meno, ci sono due organi, la cui size, il cui volume non si modifica, anche con animali che hanno un peso molto più basso, il peso corporeo rispetto all'animale di controllo è del 42% più basso, però il cervello è uguale, 100%, e i testicoli, gli organi della produzione, sono uguali, c'è una riduzione del 6% del volume dei testicoli, mentre altri organi come il fegato si riducono di circa un 34%, il cuore del 30%, la prostata del 25%. Gli organi che mi diceva Richard diventano molto più piccoli sono sicuramente la milza e i linfonodi, che diventano piccolissimi, e questo lo sapevamo che c'è una forte, anche nell'uomo, negli studi che ho fatto io, c'è una riduzione importantissima delle cellule bianche, soprattutto dei neutrofili, linfociti, che sono molto più basi, e quindi è interessante che tra tutti gli organi, il cervello e i testicoli non vengono impattati dalla reazione calorica, mentre il tessuto immunitario, il tessuto linfoide, viene drasticamente ridotto, e altri organi come il fegato vengono ridotti intorno al 30-40%, e questo potrebbe in qualche maniera avere a che fare con quello che abbiamo visto, con queste curve, anche perché sappiamo, per esempio, che appunto negli animali di restrizione calorica, nei topolini, ma anche nelle scimmie, c'è una riduzione importante della massa muscolare, i topolini di restrizione calorica hanno una massa muscolare che è del 40% più bassa, vivono più a lungo. La cosa interessante è che diversi ricercatori hanno dimostrato che la sarcopenia negli animali di restrizione calorica è molto più bassa, e la qualità del muscolo rimane alta anche negli animali anziani, mentre in quelli ad libitum c'è un declino molto accelerato, molto veloce, con una qualità del muscolo che va via via peggiorando man mano che gli animali invecchia. Vedete, sempre questo lavoro pubblicato dal gruppo di Weindrich sulle scimmie restrizione calorica, quello che si vede è che sono molto più magre, hanno un peso corporeo molto più basso, ma se guardiamo alla riduzione della massa muscolare negli animali di restrizione calorica in bianco, qui il decline è molto più limitato rispetto al gruppo di controllo che hanno una slope di decline che è molto più rapida, quindi la sarcopenia è molto accelerata in quelli ad libitum rispetto al gruppo di controllo, è come se ci fosse un rallentamento dei processi di sarcopenia indotti dalla restrizione calorica. Un altro paper pubblicato sempre da Weindrich nelle scimmie in restrizione calorica fa vedere che anche la fragilità, la fragilità è quella sindrome clinica tipica degli anziani che diventano fragili, che non sono più capaci di fare alcune cose, vari test come lo speed test, la grip strength, la capacità di stringere un oggetto, quindi la forza della mano, sono misurazioni della fragilità di un individuo e quindi la capacità di essere indipendente, di fare le cose indipendentemente, di avere la forza di fare le cose. Sembrerebbe appunto che nella restrizione calorica a questi animali pur ci sia una minore fragilità e una minore riduzione della massa muscolare man mano che invecchiano. Quindi insomma sono dati molto interessanti che ci dicono, riassumendo, che sicuramente nella prima fase della vita, nel primo anno della vita, c'è un aumento importantissimo della spesa energetica che deve essere matchata per supportare la crescita e che invece dopo i 63 anni c'è una riduzione di questa spesa energetica indipendentemente dalla massa corporea, mentre tra i 20 e i 60 anni è totalmente lineare la spesa energetica, anche durante la gravidanza, nel post parto, durante l'allattamento, e che quindi non c'è nessuna scusa, non c'è un metabolismo basale che si rallenta, ma l'ingrassamento a cui vanno incontro molte persone è legato a dei fattori che hanno a che fare con il loro stile di vita. E con questo spero che vi sia piaciuto questo video che ha discusso questo importante argomento che sia fonte di riflessione e di ispirazione per cambiare il vostro stile di vita. Alla prossima, grazie per aver ascoltato.